Bello a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video Avete visto il video di Brawl Stars prima? Speriamo di sì Allora, oggi giocheremo a Mobile Legends Bang Bang Un mio amico l'ha portato una volta E lo porterò anch'io Come l'ho portato lui, lo porterò anch'io E si chiama Emmanuel Laudatus Andate a iscrivervi al suo canale E anche al mio, mi raccomando Se no a caso riceverete Vi manderò sto tizio qua così E vi ucciderà Scherzo comunque Però fatelo Fatelo, mi raccomando Ok, così sto ucciderlo A Google Play Giochi Vediamo se stiamo registrando Spera Non ho capito Nulla Consenti Ragazzi Vabbè Credo che ora Sì Ora ok A posto siamo Bella La multimedia Dai Consenti Robert Ma che c'è Ma No no Il mio vecchio no Martia Ecco qua Martia Mi raccomando Speriamo di vincere la prima partita Vabbè Prima partita Troppo facile Neanche da commentare Ok Sì Sono un'altra Un cannone Che bello Ok Parlo a giocare Ok Ho capito Ok 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 Drogba Sì, ok Ok, la prima torre è andata, ragazzi Non so giocare a sto gioco Ok Ho vinto? Te lo dici, ragazzi? Ok, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto Livello 2 Ok Ok, ragazzi Confermo Ok Ora Faremo le battaglie vere Non ho capito nulla Cioè Devo distruggere Sì, sì, devo distruggere le torre Fino a che non le distruggo Questa Guarda, spero tanto di vincere Ok Andiamo No, andiamo E Ok Andiamo Traversiamo i più Ok, ok Mori, mori, mori Allora No, ce è proprio modo Ok 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 Sfimenti Quella Quella torre merca distrutto aia 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 aia, aia 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 aia, aia 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 sì, torre distrutto ragà, mori tù, 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 tù come te fosse stil, di vero questo? mori, mori, aia aia, aia, me stai facendo male ok la abbiamo vinto ragazzi ragazzi bella vittoria bella vittoria ok ragazzi tutorial muoverò e krasi ok 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 Grazie. Isn't it? Grazie. Agnes að hún voru, og ef vissi? Hún í Biliðaterir har hef���ið bloodag F類. Ok, mi hai chiamato nel momento giusto, Manu? Ehm, sta succedendo un dubbito. Ok, ragazzi, era successo qualcosa di strano. Non puoi, hai capito? E ragazzi, era successo qualcosa di strano. Ok, la zona nemica, la zona nemica, la zona nemica. Uè, 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 uè. Muare! No! 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 No, 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 no! No! Non posso muare. Perché è uno scherzo? Sto facendo un video. Ho capito, Tec. Però stai calmo. Ragazzi, mi vantaggio loro. Ma dov'è sta torre? Ma dove stiamo andando? Ma dov'è sta torre? 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 Dai, la torre, la torre, la torre Riesel, riesel, riesel Mi devo rigenerare, mi devo rigenerare Ok, ok Che ragazze, che ragazze Che ragazze, che ragazze, che ragazze Che ragazze, che ragazze Aia, aia, non ok, 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 non ok No, 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 ragazzi, no, ragazzi, stiamo vincendo, però ci sono questi uomini piccoli, aia, 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 sono morto. No, 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 no ha ucciso, uno ha ucciso uno, c'è un mio amico, non ha ucciso uno, e rimane solo uno. Non possiamo perdere. È troppo facile da vincere. Ora vado l'ali e faccio vedere chi comanda, 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 chi comanda. no ci sono un incredibile no ci sono un incredibile what what si ok la torre nemica distrutta la torre nemica distrutta la torre nemica distrutta ai 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 il burro del nero ai 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 è morto ragazzi ora ritorno e ragazzi dopo questa partita basta fai tutto tranquillo sono morta solo due volte monstruosa ma io sono 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 monstruosa Min Vittorio. Mi vuole metteria. Mi vuole metteria. Mi vuole metteria. Vei... Rai... ragazzi questo video fermi da qui speriamo che vi sia piaciuto ciao ragazzi